C'erano squadre interessate a me. Ma avevo solo un'opzione in testa. Avevo una sorta di patto con il toro. Era una scelta molto semplice. L'importante è che l'azienda crede in me. Era importante una to trust di MR and management. Ho fatto un anno in prestito qui e ho sentito la fiducia di tutti. Ho restituito la gioia di giocare ed è stata una scelta semplice. Questo club ha grandi margini di crescita. Mi piace sentire parte del progetto.